Un esperimento di drammaturgia che racconta il rapporto complesso e fallimentare dell'Occidente con l'Afghanistan, sempre, e il suo malgrado, al centro dello scacchiere mondiale. Afghanistan è un progetto che il Tree Cycle Theatre, la più grande officina britannica di teatro politico, ha commissionato a 13 autori tra i più interessanti della scena anglo-americana. Lo spettacolo, diretto da Ferdinando Bruni ed Elio De Capitani, in scena al teatro Mercadante, comprende dieci dei testi originali ed è realizzato in coproduzione con Emilia Romagna Fondazione Teatro e in collaborazione con il Napoli Teatro Festival, e si compone di due spettacoli indipendenti e complementari. Afghanistan è il grande gioco, che racconta cinque episodi storici del periodo 1842-1996, e Afghanistan Enduring Freedom, che affronta gli anni attuali. Soldati, nobili e diplomatici senza scrupoli, spie, emiri, giovani re e regine, comandanti e mujahdin, Reduci, fragili vittime di una guerra che non sembra avere una fine. Sono i grandi e piccoli protagonisti della storia inglese, afghana, pakistana e russa, in quelle aspre terre di confine, che si muovono in un luogo spoglio, come un centro di prima accoglienza in qualsiasi paese d'Europa. Il punto d'arrivo di un viaggio disperato e doloroso, cominciato 200 anni fa. È una magia, perché per anche chi non ne sa nulla, entra dentro un mondo, altro, diverso, Oriente ovviamente, e l'Occidente che si scontra con questo mondo. Storie di individui, di personaggi storici o di gente comune, dieci attori straordinari che fanno 44 ruoli, e alla fine è una kermesse in cui ci si immerge e si viaggia nella storia, nelle storie piccole e individuali, con un grande racconto epico e tanta poesia. I talebani sono i cattivi in tutta questa storia, non c'è niente da fare, anche se i talebani sono dei cattivi che sono stati allevati e coccolati da, invece forse che se avessero avuto forse una conoscenza un po' più approfondita delle dinamiche interne al mondo dell'Afghanistan, avrebbero scelto degli interlocutori più affidabili.